Cercare di trovare un lato positivo ai recenti infortuni e indisponibilità in casa Roma non è facile, anche perché di norma non avere a disposizione diversi giocatori non è mai una cosa positiva, perché ti costringe a reinventare un pochino la formazione e soprattutto ad avere meno alternative quando gli effettivi titolari avranno bisogno di rifiatare nel corso della partita oppure tra una partita e l'altra. Ragionando un pochino però, anche a fronte della partita che abbiamo fatto con l'Ozzoria, che sottolineo non si può certo prendere in esame al 100% visto il livello esile diciamo dei nostri avversari, si possono però trarre delle conclusioni e pensare a delle alternative o meglio dei cambi di ruolo che potrebbero far rendere al meglio giocatori che fino a questo momento non erano riusciti ad esprimere il massimo del loro potenziale. Per fare questo ragionamento ho preso in considerazione due giocatori principali, poi vi farò anche una sorta di formazione personale di domani ma voglio parlare di due giocatori che mi stanno sorprendendo o che comunque hanno fatto molto bene nell'ultima partita, Mkhitaryan e Zagnolo. Prendo in esame i loro due perché nelle partite che hanno giocato nelle recenti vittorie con Genoa e Zoria non sono stati diciamo nella loro zona di campo più abituale ma sono riusciti comunque a fare bene e questa potrebbe trattarsi di un'opportunità per migliorare, nel senso visto che gli infortunati e gli indisponibili comunque ce li abbiamo quindi bisogna fare di necessità virtù, si può diciamo mettere dei giocatori in ruoli che magari con tutti gli effettivi non ce li avresti mai messi e vedere se appunto possono essere meglio lì piuttosto che da altre parti. Per quanto riguarda Mkhitaryan abbiamo visto come nel contro il Genoa e più specificatamente con l'Ozzoria abbia giocato nella parte centrale del campo, contro il Genoa era il trequartista di turno ma lo abbiamo visto molto giostrare la palla in mezzo al campo insieme a Pellegrini e Veretù mentre invece con l'Ozzoria è stato proprio a livello di formazione messo a centrocampo con Carles Perez davanti insieme a Zagnolo e Ebram e vi devo dire la verità, pur sottolineando appunto la poca pericolosità dei nostri avversari l'ho visto particolarmente a suo agio e allora ho ragionato. Visto che Cristante purtroppo, penso che sarà fuori ancora per un po', visto che i panchinali a centrocampo non sono a livello tecnico dei migliori o comunque Mourinho non punta particolarmente su di loro può essere effettivamente un'alternativa o comunque una soluzione da adottare in situazioni di questo tipo? Io vi dico la verità, Mkhitaryan in quella zona di campo ce lo vedo bene perché è vero che ovviamente limita il suo contributo offensivo mi pare ovvio, se tu giochi a centrocampo è un po' come Cristante che è passato dal trequartista al difensore centrale non puoi pensare che sia, che davanti riesca a creare le stesse cose che magari creava prima però ha la capacità, palla al piede, di poter dare sicurezza l'ho visto comunque, gli ho visto fare dei bei passaggi, anche dei buoni rientri difensivi e questo mi ha fatto capire che a livello di sacrificio, a livello di carattere può giocare bene in quella zona di campo è vero che magari non è quel giocatore che si può definire equilibratore perché non è certo un centrocampista di ruolo ma visto che domani dei titolari ci mancano praticamente tutti da Cristante a Pellegrini, a Villar e avere tu, bisogna un po' reinventare la squadra e visto che appunto siamo un po' in difficoltà al centrocampo piuttosto che davanti magari far rientrare uno dietro potrebbe essere una soluzione è vero che anche con Mkhitaryan comunque vicino a lui ci deve mettere un giocatore che o è adattato o non è proprio nelle prime gerarchie del mister però non ci possiamo fare niente purtroppo siamo messi così, non possiamo giocare col centrocampo a uno perché veramente dopo in quel caso limiteresti l'apporto del reparto in maniera evidente e quindi bisogna un po' cercare di trovare un giusto equilibrio Mkhitaryan è il regista per me non sarebbe una follia soprattutto se magari, come sta succedendo, hai davanti più disponibilità che dietro in questo modo potresti far giocare l'Armeno in una posizione comunque congeniale alle sue caratteristiche e davanti far alternare dei giocatori che stanno facendo effettivamente bene parlato di Mkhitaryan adesso affrontiamo Niccolò Zagnolo allora, contro l'Ozzoria è stato un assoluto migliore in campo indipendentemente dal valore tecnico dei nostri avversari la cosa che più mi ha colpito è che è stato costantemente al centro dell'azione rispetto magari a Shumurodov, rispetto magari allo stesso Ebram oppure a Borca Maioral quelle poche volte che ha giocato in questo tipo di modulo secondo me calza a pennello perché lo avvicina di più al compagno d'attacco lo ha dimostrato anche con l'assist per il terzo gol sempre appunto di Ebram e migliora il suo contributo in zona offensiva secondo me molto di più rispetto che come esterno nel 4-2-3-1 e l'abbiamo visto tutti quindi nella difficoltà che ha portato al cambio di modulo con la difesa 3, il centrocampo a 4, un trequartista e due attaccanti Zagnolo può essere valutato anche come seconda punta come giocatore da affiancare all'attaccante con dietro un altro trequartista per poterlo aiutare può essere Carles Perez anche se non è proprio nelle sue corde e starà al centro però comunque può provare delle diverse soluzioni quindi ricapitolando Zagnolo seconda punta non credo ci abbia mai giocato ma se dovessimo avere conferme anche magari con lo stesso Torino che sarà un impegno molto più complicato rispetto a quello con l'Ozzeria che in quella zona di campo si trova a suo agio potremmo aver scoperto diciamo il ruolo predefinito di Zagnolo e nel caso di Mkhitaryan un ruolo in cui metterlo in situazioni di difficoltà poi certo se tu dici cambio queste posizioni è chiaro che magari devi trovare delle altre alternative però se metti caso dovessimo rimanere con questo modulo tu avresti tre difensori centrali magari uno in più sarebbe bene acquistarlo per poter avere più disponibilità visto che ce n'hai quattro contati almeno uno secondo me servirebbe sulle fasce hai tre tersini sinistri quando rientreranno sull'altra parte hai Karsdorp ed eventualmente ci puoi anche mettere El Sharawi che ha dimostrato di fare questo ruolo molto bene seppur magari sull'altra fascia a centrocampo magari dovresti prendere un giocatore che potrebbe essere Zaccaria o chi per lui davanti comunque le soluzioni ce l'hai perché c'è Pellegrini c'è eventualmente Mkhitaryan trequartista e davanti ci sono Shomurodov Ebram e a questo punto Zagnolo ripensando al fatto che probabilmente a gennaio Borca Majoral se ne andrà via alla Fiorentina scelta secondo me un po' inspiegabile ma magari è anche per volontà del giocatore che vorrebbe giocare di più e mi sembra una cosa giusta e sacrosanta potresti riavere una sorta di attaccante che non è proprio il ruolo predefinito il suo però potrebbe farlo come accompagnamento diciamo dell'attaccante di turno fatta questo discorsone Roma-Torino è una partita complicata non sto qui a dirlo perché sennò rischio solo di ripetere le frasi che vengono costantemente dette è un avversario ostico che ha la seconda miglior difesa del campionato e già solo per questo motivo sarà difficile riuscire a vincere come potremo scendere in campo? secondo me il modulo verrà confermato per forza di cose Rui Patriso in porta in difesa probabilmente si potrà rivedere Mancini, Smalling e Ibanez con Cumbulla che ha giocato in Conference League e forse potrebbe giocare anche col Bologna al centrocampo adesso arriva il problema perché sicuramente giocherà Cardinalpa a destra e a sinistra il Cerawi penso che i loro due saranno intoccabili oppure anche Vigna con il Cerawi magari messo trequartista a centrocampo ecco abbiamo veramente i giocatori contati Miki Tagan secondo me sarà una soluzione al suo fianco non so bene chi potresti scegliere potresti mettere uno tra D'Alboe e Di Avarà che però sai non essere giocatori particolarmente eccellsi purtroppo i giocatori sono quelli secondo me qualcuno diceva anche Zaniola a centrocampo secondo me è un po' presto diciamo per pensare di fargli fare quel ruolo io che vi devo dire cioè secondo me le scelte sono obbligate a questo punto tra i due forse Di Avarà è un giocatore magari un po' più esperto che non è un fenomeno però magari può fare più da collante tra i due reparti e potrei vederlo un pochino meglio però sappiamo che comunque siamo in difficoltà davanti anche qui le soluzioni sono molteplici perché può giocare Shomurodov ed Abram con Zaniolo trequartista può giocare Carles Perez e davanti Abram e Zaniolo esattamente come ha giocato in conference comunque le alternative ci sono l'importante è che i giocatori riescano a fare propri dei ruoli anche magari non congeniali con le loro principali caratteristiche oppure come ho detto nel caso di Mkhitaryan e Zaniolo potrebbero essere delle novità che non si aspettavano che potrebbero risultare determinanti non lo sappiamo e ovviamente ce lo auguriamo detto questo ragazzi allora vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate diciamo di questi due possibili cambi di ruolo per Mkhitaryan e Zaniolo se pensate che per loro possa essere un modo per rendere al meglio con la maia giallorossa oppure se credete che quelle viste finora siano prestazioni da non prendere in considerazione visto il livello discreto dei nostri avversari vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando tra poco farò un video preparato che uscirà prima di ogni argomento del giorno sono attivo anche sul sito Viola vi lascio il link in descrizione mi raccomando seguitemi anche lì perché sto portando molte più live del normale già ve lo dico e siamo vicini ai 500 follower quindi mi raccomando iscrivetevi in tanti che a me fa tanto tanto piacere un saluto dal vostro gradatore giallorosso ci vediamo presto per un altro video sempre e comunque forza Roma e alla prossima